Dai motori al calcio, dalla pallavolo alle altre realtà sportive che hanno portato lustro al territorio brianzolo. È cominciato ieri sera Monza, una città da Serie A, l'evento di tre serate che fino a sabato vedrà protagonisti in piazza Trento e Trieste, grandi ospiti, personaggi di spicco del mondo dello sport, esposizioni ed eventi dedicati ai più piccoli sulla sicurezza stradale. Monza finalmente è diventata una città di Serie A in tutti i sensi. Nello sport primiaggiamo l'autodromo, questa sera c'è il WEC, domenica ci sarà alle 6 ore di Monza. Domani invece la serata sarà dedicata a tutto il calcio Monza, ai personaggi della società, ai tifosi, ai giornalisti, per parlare di un anno magnifico. Concluderemo poi il sabato con tutti gli altri sport e ci sarà il volley. Noi siamo l'unica città che ha due squadre in Serie A, una femminile, l'altra maschile, più altre grandi realtà sportive monzesi. Monza è la città di Serie A non solo per il Monza Calcio che ha riportato il risultato migliore della storia per una neopromossa ma è Serie A per le auto, per la pallavolo, per tanti altri sport che verranno passati in questa grande rassegna organizzata che come regione Lombardia abbiamo avuto l'onore di poter patrocinare aiutando quindi la sensibilizzazione verso lo sport, lo sport che è la festa di tutti, è prevenzione, è vita. Spazio nella serata di esordio alle macchine e ai piloti del campionato mondiale Endurance che hanno incontrato i tifosi raccontandosi e firmando autografi in attesa della 6 ore all'autodromo di domenica. Davanti a un pubblico in festa è stata l'occasione per il comune di Monza per consegnare ad Antonio Coletta e alla Ferrari una targa di riconoscimento dopo la grande vittoria ottenuta alla 24 ore Le Mans. Io da pilota di Formula 1 ho vissuto sempre Monza con grandissima emozione perché i nostri tifosi sono sempre molto vicini al pilota italiano, al team italiano quindi arrivare qui a Monza davanti a tutti questi tifosi ci saranno più di 80.000 persone domenica quindi sarà il nostro dovere fare molto bene perché vogliamo essere lì su quel podio domenica a festeggiare le mani e speriamo anche la gara domenica. Sono tre giorni estremamente importanti dedicate a tre diverse tipologie di sport quindi questa sera WECA e quindi assolutamente auto, auto e chiaramente noi dedichiamo questo premio alla Ferrari perché c'è questo binomio importantissimo tra la nostra città e la Ferrari legata proprio al nostro autodromo e quindi al tempio della velocità. Chiaramente il calcio ha fatto una stagione veramente notevole in Serie A e quindi riteniamo doveroso omaggiare quanto fatto dalla nostra squadra di calcio in Serie A poi abbiamo però anche altre realtà sportive di squadra o anche singole che hanno ottenuto risultati eccellenti quali ad esempio la ginnastica, il roller, ne avremo diverse.